Innanzitutto grazie ad Amtab, Emilio Laricchia, la società che possiede la concessione pubblicitaria per le pensiline di Amtab. Dal connubio da queste due istituzioni è nata l'idea bellissima che noi abbiamo fortemente favorito di coinvolgere l'Accademia di Belle Arti che è una delle accademie più vive della nostra penisola, la seconda in Italia per numero di iscritti, partecipata da quasi un migliaio di ragazzi che si formano nelle arti plastiche figurative, visive e che costituiscono la linfa degli artisti che inonderanno, spero, i mercati dell'arte internazionale globali nei prossimi anni che già oggi si fanno valere con queste bellissime opere che andranno a coronare il sogno di rendere la città sempre più bella, più attrattiva. È partito un anno fa il progetto di rivitalizzazione per le pensiline Amtab da poco ristrutturate per rendere accogliente l'attesa dei bus e raccontare origini e tradizioni baresi per non perdere le nostre radici pur essendo cittadini del mondo. Noi siamo molto felici di questa iniziativa perché va considerata insieme a tutto lo sforzo che sta facendo l'amministrazione comunale per abbellire la città, creando spazi nelle periferie, creando spazi culturali, riaprendo il cinema Margherita. Anche la circolazione di pullman nuovi per la città, sia la presenza di pensiline nuove, pensiline addirittura decorate, penso che contribuiscono a rendere più bella Bari. Ogni anno ci sarà questo premio, hanno annunciato, per rafforzare il ruolo dell'Accademia delle Belle Arti di Bari e promuovere l'attività degli studenti. La cosa importante è che tutte queste cose escono dai laboratori dell'Accademia, che è il DNA dell'Accademia. I laboratori sono molto importanti e è da lì che nasce la bellezza e noi siamo sensibili alla bellezza. A noi si coniuga sia la tradizione che l'innovazione. Noi abbiamo la sede di Bari dove ci sono i dipartimenti di arte applicate, dove c'è la tecnologia. Poi c'è la sede di Mola di Bari, che è un ex convento del Settecento, dove c'è la tradizione. Le opere selezionate dai docenti Michele Giangrande, Giulia Barone, Giuseppe Negro, sono di otto ragazze dell'Accademia che hanno ricevuto anche una borsa di studio. Siamo parti tutte quante guardandoci intorno principalmente, guardando intorno a noi, la città, il modo di vivere, il modo di amare la nostra città in sé per sé.